Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e con questo video ragazzi vi voglio augurare un buon capodanno a tutti e ringraziare tutti quanti di questo anno che è passato, ringraziare il mio staff, i miei amici, le persone che mi hanno aiutato in questo anno anche a fare glitch, che mi sono state vicino tutte le persone, un saluto in particolare alla mia ragazza, che altro dire ragazzi, chi mi è stato più vicino di tutti è proprio lei quindi le auguro un felice capodanno e niente ragazzi anche a voi veramente un felice capodanno a tutti voi speriamo che il nuovo anno sarà migliore e che questo anno comunque lo passiate bene, quest'ultimo dell'anno lo passiate bene, sereni insieme a chi volete vicino insomma no ragazzi io poi su queste cose non so mai che cazzo di quindi ragazzi l'unica cosa che vi posso dire è preparate comunque le bottiglie di spumante perché manca veramente pochissimo al capodanno, mancheranno non so che so 30 secondi ragazzi quindi cominciate il conto alla rovescia e un saluto a tutti e al prossimo anno, ciao a tutti ragazzi, auguri ciao 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 ciao